Manca il neurologo negli ospedali dell'Ulss 7 Pedemontana? E che problema c'è? In caso di necessità basta chiamare i vicini di casa, come si fa fra di rimpettai quando si finisce il caffè o serve una presa di sale. Peccato che non stiamo parlando di caffè o di una tazzina di zucchero, ma di una professionalità importantissima come quella rappresentata da un medico neurologo, che per inciso non è presente negli ospedali dell'azienda sanitaria Pedemontana dalle 16 alle 8 del mattino successivo, dal lunedì al venerdì, e dalle 14 alle 8 del mattino successivo nei fine settimana e nei festivi. E cosa succede se qualcuno ha bisogno di un neurologo al San Bassiano, per esempio? Lo spiega questa circolare che porta la firma del direttore sanitario dell'Ulss 7 Pedemontana, Antonio Di Caprio. I reparti di degenza che avessero necessità potranno richiedere una consulenza telefonica ai neurologi dell'Ulss 8 di Vicenza o di Arzignano. Sì, avete capito bene. Se c'è bisogno di un neurologo bisogna fare una telefonata a Vicenza o ad Arzignano, a decine di chilometri di distanza dagli ospedali dell'Ulss 7. Nello specifico bisogna contattare la centrale comunicazioni urgenti dell'Ulss Berica. Il neurologo in guardia a Vicenza per il percorso stroke, ovvero in caso di ictus ischemico cerebrale e il neurologo in guardia ad Arzignano per patologie urgenti non stroke. E non è tutto perché il numero indicato nel documento che potete vedere con i vostri occhi è semplicemente quello del SUEM che dal sito dell'Ulss 8 risponde dalle 14 e 30 alle 17 e 30. A questo punto sorgono spontanee alcune domande. È normale che ci siano fasce così ampie negli ospedali dell'Ulss 7 in cui non c'è un neurologo. È cosa opportuna poi che in caso di necessità un ospedale come il San Bassiano debba far riferimento ad altri ospedali o addirittura ad Arzignano per una consulenza. Nel documento firmato da Di Caprio non è spiegato, ma ci si chiede anche quale sia la dinamica in caso di emergenza, di un ictus, di una necessità. Una telefonata ti allunga la vita, diceva una vecchia pubblicità, ma questa non è mica la reclama, questa è la vita vera. Grazie a tutti.